Un altro attacco a Palmira? Avete in previsione altri vertici? Certamente c'è il dovere di intervenire per tutelare i beni culturali, è molto difficile farlo nelle zone di guerra, ma lo si può fare nelle zone a rischio, lo si può fare anche nelle zone immediatamente liberate dai contesti di guerra e quindi l'impegno che parte dall'UNESCO ma che investe anche nelle Nazioni Unite, su cui anche in Italia ha lavorato molto il ministro dei beni culturali, credo che sia molto utile. Grazie.